L'albero caduto a Campomarzo, tragedia sfiorata, l'assessore Cristiano Spiller, vanno definite nuove strategie di prevenzione. Dalle Rodolfi la strada alberata adesso fa paura, i residenti chiedono verifiche sulle piante che incombono sulle case. Vaccini anti-covid, Michele Dallanegra raccoglie l'appello del cube, serve una commissione. Quartiere ex circoscrizione 3, i residenti, la sicurezza, il problema maggiore. Tentata violenza sessuale, 69 anni è condannato e portato in carcere al San Pio X. Torna l'ora solare, stanotte le lancette degli orologi vanno portate indietro di un'ora. Tg Vicenza, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli di apertura. Il giorno dopo la tragedia sfiorata in Campomarzo, la Procura apre un'inchiesta. Il Comune intende nel frattempo rivedere le strategie di intervento per una prevenzione efficace. Sentite. All'indomani della caduta dell'albero, che in Campomarzo avrebbe potuto provocare una tragedia, le radici del grande tiglio caduto sono state poste sotto sequestro dai carabinieri per conto della Procura, che ha avviato un'inchiesta sul grave incidente. L'albero, la cui pericolosità era già stata accertata in classe C, era considerato non a rischio caduta imminente. Una classificazione errata che il Comune intende ora rivedere in tutto il patrimonio verde di sua competenza, soprattutto nelle aree a rischio. Sì, in alcuni casi bisognerà alzare l'asticella della sicurezza, perché una stessa pianta con magari le stesse problematiche e criticità, che in alcuni casi sono quelle di una pianta comune normale, perché in alcuni casi cadono anche piante perfettamente sane, se il fenomeno atmosferico è particolarmente intenso. E' chiaro che questo va tenuto conto non solo dello stato della pianta, ma anche nel luogo in cui essa si trova. Alcuni mesi fa, in via precauzionale, abbiamo chiuso i parchi pubblici, i parchi storici, nel momento in cui c'erano state previsioni meteo di forti temporali. Un provvedimento impossibile però da adottare nell'area non ricintata di Campo Marzo. L'amministrazione comunale intende perciò esaminare altri provvedimenti nel caso di gravi allerte meteo. Per questo serve con urgenza una mappatura aggiornata. Sì, una mappatura è già in atto del verde pubblico e quella può essere un buon strumento di partenza per iniziare ad adottare queste nuove strategie di prevenzione, in particolar modo, anche se è chiaro che proprio la vastità del numero di alberi che c'è nella città rende più complicata l'operazione. Ma in ogni caso sarà nostra intenzione da lunedì iniziare a ragionare su queste nuove modalità di attenzione. Quindi una questione, quella degli alberi potenzialmente pericolosi, molto sentita in tutta la città. Oggi siamo stati in Viale Rodolfi, dove alcuni platani sono stati segnalati dai residenti. Alberi, giganti verdi che incombono sulle case. Un giorno come tanti, ma non come tutti. Dopo la caduta di un tiglio che a Campomarzo ha travolto cinque persone, adesso i cittadini che vivono lungo Viale Rodolfi hanno paura. Ci sono dei platani che svettano oltre il muro di cinta di alcune abitazioni. I tronchi storti si affacciano prepotentemente sui giardini, sui tetti. Un'ipotesi potenziale potrebbero anche venire giù o comunque rompersi una parte dei rami. Appunto perché le piante sono molto alte e soprattutto sono proprio piegate all'interno, quindi non verso il Viale, ma verso le abitazioni. E ho paura perché mi rendo conto che sono alberi pericolosi. Viale Rodolfi è una delle arterie principali di Vicenza, da cui passano migliaia di auto al giorno. C'è l'ospedale San Bortolo, è una delle strade su cui gravita una parte importante del traffico cittadino. E' il classico viale alberato. Questi platani potrebbero essere solidissimi, ma potrebbero anche essere pericolosi. I residenti chiedono di saperlo adesso, subito, il prima possibile. Giusto chiudere i parchi quando ci sono i temporali per la pericolosità degli alberi che possono colpire le persone. Però per lo stesso motivo anche lungo le strade c'è una pericolosità alta. Essendo di passaggio comunque pedonale, per quanto riguarda anche le automobili potrebbero esserci degli incidenti molto più gravi rispetto a quello successo ieri. Quindi chiediamo un'attenzione particolare anche agli alberi lungo i viali. Queste abitazioni che si affacciano su Viale Rodolfi hanno l'ingresso dall'altra parte in Contra Santa Lucia e alcune si trovano proprio davanti alla piazza della vecchia chiesa di Araceli. Un gioiello barocco dove però il verde pubblico va curato decisamente meglio. Anche lì gli alberi sono, quando piove, quando c'è vento, vengono giurami, cioè è una zona di grande degrado dal punto di vista del verde. Il messaggio è lanciato. Se il Comune intende definire nuove strategie di prevenzione, beh, Viale Rodolfi è un ottimo punto di partenza. Ogni temporale qui la gente trema. La salute di questi alberi va monitorata. Con un fortunale, con un vento molto forte, potrebbero anche abbattersi sui tetti sia della nostra abitazione che dell'abitazione vicina. Certamente ci può essere una relativa minaccia. Sono pericolosi, bisognerebbe agire e fare qualcosa. E ora cambiamo decisamente argomento. Torniamo a parlare dei vaccini anti-Covid. Michele Dallanegra raccoglie l'appello del CUB. Serve una commissione, sentite. C'è bisogno di fare chiarezza sulla questione dei malori improvvisi e dei tanti morti, soprattutto in persone sane, che vediamo tutti i giorni dai nostri giornali. C'è bisogno di chiarezza. Il messaggio è stato lanciato qualche giorno fa dalla CUB, la Confederazione Unitaria di Base, che ha scritto a sindaci, ad assessori e a consiglieri comunali per chiedere, alla vigilia di una nuova campagna vaccinale anti-Sars-CoV-2, di verificare se, in passato, ci siano stati, oppure no, effetti avversi sulla popolazione. Con la lettera che, come CUB Veneto, abbiamo trasmesso ai sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutti gli enti locali del Veneto, abbiamo voluto sollevare la cortina di silenzio che è calata sugli effetti della vaccinazione di massa della popolazione avvenuta nel 2021 contro il virus Sars-CoV-2. Chiederemo i dati alle varie aziende sanitarie del Veneto e vorremmo anche interessare la magistratura. A raccogliere l'appello lanciato dalla CUB, il consigliere comunale vicentino di centrodestra Michele Dallanegra, che apre alla creazione di una commissione per verificare eventuali effetti avversi in seguito alla vaccinazione di massa imposta per legge nel 2021. Il gruppo che fa capo a Francesco Lucco, gruppo consigliare, ha fatto proprie listanze del sindacato CUB e ha presentato una proposta di delibera di iniziativa consigliare per l'istituzione di una commissione. Lei, il sindacato, anche perché essendo un sindacato è a contatto con il mondo del lavoro, ci ha sottoposto tutta una serie di temi che vogliamo approfondire in questa commissione, perché con la salute non si scherza. La commissione potrebbe essere composta da due consiglieri della maggioranza di centrosinistra e due della minoranza di centrodestra, più tutti i delegati sindacali presenti nell'RSU. È chiaro che la commissione ha ampi poteri, per cui ha la potestà di chiamare a consulto medici e di chiedere dati, tenendo presente peraltro che il sindaco è l'autorità di sanità a livello locale, per cui il sindaco ha degli ampi poteri e delle grandi responsabilità anche in materia sanitaria. È ovvio che se dovessero emergere le fattispecie penali, ciò non toglie che si possa anche notiziare la magistratura. Rimaniamo in città e ascoltiamo insieme cosa chiedono i cittadini dell'ex circoscrizione 3. Più sicurezza nel quartiere, in tutto, perché non c'è mai nessuno che passa per guardare tante cose che non va bene. È la richiesta prevalente tra i cittadini della ex circoscrizione 3, dove a fine mese il sindaco Possamai terrà l'incontro di giunta e a seguire gli assessori saranno a disposizione per ascoltare e raccogliere le segnalazioni dei residenti nella sede di Villa Attacchi di Viale della Pace. La richiesta di più sicurezza è in cima alla lista delle priorità degli intervistati. Vivere in la Santa Piuda Cristiani, manco mia, penso così, e vivere tranquilli. No, sono su un quartiere dove non ti puoi neanche uscire a sera perché ti hai paura. Non sei giusto così. Preoccupo un po' tutti quanti, è chiaro che, visto i tempi come stanno andando, di sicurezza ne abbiamo poca come cittadini. Passiamo per antirazzisti, o per razzisti meglio, ma comunque viene da dirlo perché oggi come oggi, quando arrivi alle 6 di sera, 7 di sera, devi rimanere chiuso in casa perché fuori non ci puoi andare fuori, non puoi uscire. Più sicurità, sì, sì, ho bisogno di quello perché così uno si sente più sicuro perché tante cose che stanno succedendo che non sono buone. La sicurezza non lo so perché io vado fuori di giorno e nient'altro. la settimana scorsa però mi stavano borseggiando qui. Un'egregia signorina, solo che si è accorta la commessa che serviva agli affettati e mi ha allertato. Comunque ci sono tante cose che non vanno e il sindaco dovrebbe tenerne conto. Per esempio la pulizia delle strade che una volta facevano, poi dovevano dare la multa perché la gente parcheggiava male. Hanno tolto la pulizia delle strade invece di continuare a dare le multe. Sicurezza un po' di più, sì, un po' di più, almeno ogni tanto a vedere qualche agente, ecco questo, sì, può essere. Per lei signora? E anche per me più o meno le stesse cose, sì. Una cosa proprio in cima alla lista delle priorità da fare subito, se avesse chiedere, fare una richiesta. Sicuramente la sicurezza più che altro perché si ha paura di girare quando è un po' per le strade, quando è scuro sicuramente. Più vigilanza, più tutto, più tutto. Quella è l'importanza, la vigilanza. Pensa che andrà a diglielo quando viene qua perché adesso... E penso che ho paura. Apriamo ora la pagina della cronaca. È stato portato in carcere l'uomo che aveva tentato di stuprare la sua vicina di casa. Un vicentino di 69 anni è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Vicenza per espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione. Lo ha deciso il Tribunale di Vicenza, a seguito della condanna, per essere entrato nell'appartamento della vicina di casa tentando di violentarla sessualmente e procurando le gravi lesioni personali. I fatti risalgono all'agosto dello scorso anno. Per questo l'uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'ammonimento dal questore Paolo Sartori, un provvedimento rafforzato dalla Procura della Repubblica che aveva emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti hanno prelevato il 69enne e lo hanno condotto nel carcere berico. E una persona è rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto nel cuore della notte in Viagogna. Incidente stradale nella notte in Viagogna. Un'auto finisce fuori strada verso le 3.30, illeso il conducente che aveva perso il controllo della vettura mentre è rimasto ferito il passeggero che è stato soccorso dal personale del Suem che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Bortolo. E' stato però necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco per restare il ferito dalla vettura, una Volkswagen T-Roc dove la persona era rimasta incastrata nell'abitacolo. Le operazioni di soccorso si sono concluse verso le 5 sul posto per i rilievi la polizia di Stato. Ci spostiamo ora a Torri di Quartezolo perché il quartiere Casoni avrà la sua piazza verde. Adesso noi vediamo un campetto da calcio sostanzialmente che anche in passato ha creato qualche problema di pallonate un po' a caso. Qui dovrebbe diventare, si mantiene una destinazione a campo ma si dovrebbe costruire attorno una pista per atletica, alcune altre attrezzature che però è difficile che io anticipi questo perché ci si propone di coprogettare e coprogettare con Proloco, con il comitato di quartiere, diciamo con la cittadinanza. In via 25 Aprile nell'area verde del quartiere Casoni da anni i cittadini chiedevano una profonda riorganizzazione del parco per questo l'amministrazione comunale aveva elaborato un progetto denominato Piazza Verde. L'assessorato L'Ambiente lo aveva definito il nuovo cuore pulsante del quartiere un centro vitale di scambio culturale, sportivo e ricreativo che punta a favorire soprattutto le relazioni sociali tra i residenti. Un duplice scopo dunque, oltre a favorire la pratica sportiva questo spazio ora suddiviso in campo da calcio e giardino diventerà una grande area verde di aggregazione dei cittadini con una piastra per basket e pallavolo e un anello pavimentato per la corsa. Un sogno che verrà presto concretizzato attraverso il finanziamento di un istituto di credito che permetterà la realizzazione di questo progetto di rigenerazione urbana del valore di 114 mila euro un modello partecipativo che andrà a costituire anche un prototipo replicabile. In questo momento noi abbiamo avuto notizia da poco del finanziamento adesso c'è bisogno appunto di mettere su carta un progetto definitivo e lo spirito giusto è quello appunto di collaborazione che è quello che proponiamo questo è direi un progetto modello che si vorrebbe poi portare anche in altri quartieri. E lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte quando ci sarà il passaggio all'ora solare che scatterà esattamente alle 3 quando torneranno ad essere le 2 di notte dormiremo quindi un'ora in più ma avremo un'ora di luce in meno con la conseguenza di un consumo energetico maggiore. Secondo la società italiana di medicina e ambiente si tratta di un cambiamento che ha effetti negativi su più fronti salute, energia, bollette, ambiente e tasche anche dei cittadini per questo è stata avviata una raccolta firme per chiedere al governo l'ora legale permanente negli iPhone, smartphone e dispositivi elettrici il cambio sarà automatico. Questa era l'ultima notizia vi ricordo che questa sera in prima serata tornano i grandi film di Rete Veneto le 21 e 15, il matrimonio che vorrei commedia con Meryl Streep e Tommy Lee Jones. Da Vicenza è davvero tutto vi lasciamo ora alle previsioni del meteo grazie per averci seguito una buona serata a tutti voi.